Allora, questo è un memo sull'idea del discorso del triangolo, ok? Siamo sempre sull'esercizio che abbiamo appena visto riguardo le verticalizzazioni, quindi scala maggiore, ionica di sol. Allora, la riflessione è, a blocchi di due corde, quindi sei note, prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta, in realtà noi potremmo prendere prima, terza e quinta, che sarebbe un arpeggio, una triede in questo caso maggiore. Le altre tre sono quella minore, quindi... No. Quindi hai... Sono microparticelle però che sono sempre, invece che scalari io voglio fare... Invece che fare... One, two... Posso fare... One, two... One, two... Però a farmi sempre un la... La minore settima, diciamo tipo... La minore settima, la settima... Sono sicuro, è mezza... Teno... Ma gioch셨�i... E sempre andiamo avanti modalmente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti